Io sono Vittorio, vengo da Cesenatico vicino al mare. L'avete mai visto il mare? Sì! Oh, bravi! Allora io sono la moglie di Vittorio, veniamo da Cesenatico, veniamo su adesso perché siamo vecchietti noi, eh? No, vecchietti, vecchioni diciamo. E allora veniamo su a fare qualche pulizia ogni tanto. Voi che classe fate? La terza, la quarta? Allora, noi non abbiamo avuto le scuole che hanno adesso i giovani, voglio dire, e tutta un'altra cosa. Loro adesso hanno il computer, la televisione, noi siamo vecchi, non lo conosciamo perché anche non abbiamo figli. Io ho 80 anni. Lui ha 80 anni, io 78 ormai, e poi quando siamo nati noi, era un'altra epoca, non c'era tutte queste cose che c'è adesso. Ah, e c'era questo mulino. Come? Una volta questo mulino esisteva. Ah, una volta funzionava, adesso non funziona più, no? Ma quando l'ha preso mio fratello, era tutto un rotame, diciamo. Dopo l'ha messo a posto, che è un pozzettino. Dopo siamo venuti noi a fare, perché mio marito faceva il muratore. E loro, un mio fratello che non c'è, anche lui, abbiamo fatto da muratore. E qui abbiamo lavorato molto. Allora, la nostra giornata era così. Io e i miei andavano al mercato. Io eravamo quattro fratelli, una femmina e tre maschi. Io dovevo fare tutte le faccende di casa. A parte che non ho fatto nemmeno la quinta, perché dopo mi sono malata. e loro dopo non sono andate più alla scuola. E dopo eravamo sei in famiglia. Io facevo le faccende, facevo la piedina, facevo tutte queste cose qui. Poi mi sono sposato, mio marito, loro avevano la terra. E dopo abbiamo lavorato la terra. Lui però ha fatto anche il muratore. E poi siamo venuti su qui, al mulino, a fare da muratore. Poi quando andiamo di sotto, vi dirò, nel tunnel, era pieno, pieno di terra. Io e mio marito le abbiamo tolte tutte, ma c'era della terra. Guarda, è una cosa incredibile. Con un carretto portarla via, con la patrice portarla fuori, perché era pieno, pieno. E niente, noi abbiamo sempre lavorato, non siamo mai andati in nessun posto. Il posto che veniamo è quassù, ha capito? Non andiamo nemmeno al mare, perché siamo vicini, magari cinque chilometri. Ecco, questa è la nostra vita, dai. Una volta come facevate lavare i panni? Ah, panni? Si lavavano a mano? Non c'era la lavatrice, nel fiume, nel fiume, in casa. Oppure c'era la pompa, si andava la pompa. Ricordo che una volta, si lavava la mattina, magari, quando tutti erano a letto, io mi alzavo, avevamo la stufa, riscaldavo l'acqua per lavare, li lavavo e poi li andavo a asciugare, li andavo a risciacquare dalla pompa, che dovevi fare sempre così, con la pompa. Ma, quando era d'inverno, si aggrazzava l'acqua, quando tu li riscacquavi. Adesso siamo dei signori, adesso voi siete più signori di noi, perché avete tutto. Mentre noi, alla volta, non c'era niente, diciamo. Con fronte di adesso, non c'era niente, ecco. Io, quando andavo a scuola io, prima della guerra e subito dopo, la maestra ci picchiava. A mezzogiorno, quando chiudevano la scuola, ci prendeva dietro, una volta eravamo 20-25 in un'aula, la metà li prendeva dietro, ci metteva in ginocchio e su per la scala, e ci mandava a casa quando ci pareva lei. E io tante volte sono stato in ginocchio, su per la scala della maestra. Ah, quando hai detto tu prima a lavare dove si andava, si andava nel macero, che l'acqua era già sporca, tutta sporca. E erano tante le donne. Come hai fatto a passare la guerra? Passare la guerra? Sì, perché... Sai io cosa dicevo? La guerra avevo 10 anni. Pensavo questa frase qui, la guerra è tanta brutta che non ne faranno mai più al mondo quando finisce. Invece ci sono sempre continuamente. Una cosa che non l'avrei pensata, pensavo così da bambino. Quando finisce nessuno al mondo farà una guerra. Quanti anni ha durato la guerra? A noi il brutto è stato un mese, è stato un mese, un mese e mezzo. Ma la guerra è durata tanto, 3-4 anni. In quel mese noi eravamo 19 in famiglia. Una mattina ci siamo usati, eravamo proprio vicino alla chiesa, al centro lì del mio paese. C'erano 4 mucche morte, mese morte nella stalla. E allora mio babbo aveva dei parenti vicino a Cervia. È andato a vedere là, da lì ci sono 10 chilometri, se si prendevano ospiti sfollati. Siamo partiti in 19 con le mucche per la strada e andare là. Lì poi erano pieni di tedeschi questa casa. Ci hanno dato il posto nella stalla a noi e loro si sono messi fra dei pagliai con delle totoie alla buona così. E pioveva sempre, sempre che l'acqua era vicino a casa. Era tutta acqua dappertutto. Però là non è venuta nemmeno una granata. Siamo stati bene, diciamo. Avevo 10 anni, sono del 34. Ricordo, eravamo lì vicino alla chiesa, c'era un carro armato dei tedeschi che tirava un po' di colpi contro gli americani che erano sul di là da noi c'è il Rubicone. Quindi vi proteggerli. E dopo dal di là duravano delle ore e ore sempre a martellare bombe, 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 grenade, grenade. Non so come abbiamo fatto a salvarsi. Perché le grenade erano tante. E sotto terra, in dei rifugi, ogni tanto bisognava uscire perché veniva l'acqua che pioveva sempre. Avevi paura quando c'era la guerra? Ha tanta paura. Ma non solo noi. Anche il cane aveva paura. Voleva venire nel rifugio, non ci voleva stare di fuori. Solo che nel rifugio c'era poco posto perché eravamo tanti. Io ricordo gli ultimi tedeschi dove eravamo dai miei parenti, dai parenti di mio padre, la vicino Cervia, andavano via, non si volevano arrendere, con un biroccio a mano, con un ferito nel caretto e loro tiravano il caretto a mano. e gli americani erano lì vicino che stavano arrivando, lì avranno arrivato mezzo chilometro più in giù. Come era fatto il rifugio? Ah, era un buco di terra con dei travi, dei legni, un pagliaio magari sopra, un mucchio di fascine, c'erano le fascine una volta. Però i rifugi erano pericolosi anche perché i cugini di mia mamma erano dodici, le è andate giù una bomba proprio sopra, sono morti tutti lì sotto, ma ce ne sono state anche di famiglie, altre famiglie numerose che nei rifugi sono morti, perché è così. Era una fortuna, diciamo, mi metto qui, penso di essere protetto, invece non sei. È fatica, è come girare in macchina, ti sembra di andare via e che sei sicuro, però purtroppo delle volte quello è un'altra cosa, però la guerra è così, ecco, è così, adesso chi c'è in guerra, purtroppo chi l'ha passata dopo ne sa a dire qualcosa, ecco.